Porto Filippo Rocchetti che vince in casa una grande classica come il problema di Roberto Ramonica Eccolo qua Filippo Rocchetti che è stato bravissimo e lucido nel finale Filippo Rocchetti è stato bravissimo, la ruota giusta, eccolo qua, il rotto di un cronometro Filippo Rocchetti, eccolo qua, Filippo Rocchetti il primo sottraguardo Bravissimo